Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi ritorniamo su Duelist Nexus perché quando avevamo visto questa carta Diciamo che l'abbiamo più etichettata come Occhio di Sauron che altro Però oggi vogliamo andare a fare un discorso molto diverso Prima di iniziare ragazzi come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di un esempio al giorno di un mondo di Yugi mi raccomando è portatissimo Grazie mille e andiamo a rivederla Corrupted Gem of Rebellion Snake Eye Allora diciamo che questa fondamentalmente è palesemente un supporto per Valiance Perché comunque ci permette di targettare un mosto sul terreno e piazzarlo nella zona Magic Trappola Poi Valiance fa più o meno le stesse cose Diciamo che Valiance permette anche di spostare il mosto nella zona Magic Trappola Se quella zona è occupata spacca quella carta che occupava la zona Quindi diciamo fa un doppio removal Ma se in realtà questa dato che è fondamentalmente generica può essere considerata un removal Il removal del futuro più che altro perché comunque è una carta che ci permette di bypassare le carte indistruttibili Perché no Oppure carte che magari sulla zona mostri non possono essere Che ne so mandate al cimiterro Al momento non credo ci sia roba del genere Però insomma può essere una carta che ti permette di bypassare comunque determinate cose È vero targhetta Quindi questo non ci consente di andare a togliere roba intarghettabile Però comunque può essere una di quei removal che può andare appunto a togliere carte Quanto meno fastidiose che magari o sono immune dagli effetti dei mostri E non possono essere istrutti dagli effetti della carta Oppure non possono essere istrutti in battaglia Comunque può essere una carta che ci consenta di Soprattutto se poi viene stampata in una realità abbastanza comune Può essere una soluzione molto economica per andare comunque a togliere carte Ok ci puoi mettere i regeghi, buco nero, tanta roba Però magari prendere un mostro di extra dell'hop e buttarglielo nella zona budget trappola In modo che non possa più sfruttarlo non è male Tra l'altro non è solo la removal perché c'è anche egomorph La Jojo's reference che fondamentalmente ha un effetto in realtà molto utile Anche questa potrebbe essere una comunazza che è molto sfruttabile Soprattutto perché molto spesso è difficile che qualcuno ti attiva la roba in battle Però questa spacca, più che altro ci interessa l'ultimo effetto Spacca entrambi i mostri che stanno combattendo all'inizio del damage Se un mostro dell'avversario combatte contro un nostro mostro Possiamo attivare uno dei seguenti effetti Cambiamo posizione Facciamo ritornare il target dell'attacco in mano Quindi Può essere buono perché Allora se noi attacchiamo l'hop Glielo facciamo rimbalzare in mano Se l'hop attacca noi Facciamo rimbalzare il nostro E quindi il target dell'attacco Quindi anche essa può essere veramente molto interessante Oppure spacchiamo entrambi i mostri senza targettare Quindi o rimbalzi in mano o targettando Oppure spacchi entrambi senza targettare Poi anche se può essere un removal molto molto interessante Soprattutto se poi vai a stamparla comune magari E quindi potrebbe essere tanta tanta roba Detto questo ragazzi comunque Fatemi sapere voi cosa ne pensate Ovviamente se credete che possano essere dei removal interessanti Non dico che possano essere quelli che ti cambiano la vita Perché insomma ci sono carte molto molto forti Però potrebbero essere delle soluzioni interessanti Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti Tip